Non chiediamoci quando si ripartirà. Non è il momento delle speranze, ma della consapevolezza. Il teatro è condivisione e bisogna fruirlo stando vicini. Non è in streaming, non è in HD, non è in 4K. È vero. È vivo. È dal vivo. Un teatro si riempie quando il cuore della società batte forte. Un teatro lo si sceglie quando l'umore ha il segno a più. Un teatro non può vivere con la paura di quello che c'è nell'aria. Quindi non facciamoci domande, non cerchiamo risposte. Ascoltiamo il cuore. Il nostro batte. Ha rallentato, è vero. Ma batte sempre. E tornerà a battere sempre più forte. E lo farà. Grazie a voi. Grazie. Perché ci aspetterete. Grazie di cuore. Grazie. 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 Grazie.